Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle TSL 438 Up & Down Grip ovvero le ciaspole della serie Grip di TSL con un sistema veramente innovativo nel tallone adesso insieme ne vediamo caratteristiche ma soprattutto i pregi e difetti all'interno della recensione completa iniziamo dalla caratteristica fondamentale delle ciaspole ovvero la loro galleggiabilità c'è da fare una premessa perché esistono due taglie di queste ciaspole ovvero la serie 418 e 438 la differenza è in base al peso dell'utilizzatore che se è più leggero deve prendere la taglia 418 se è più pesante la 438 per quanto riguarda la galleggiabilità c'è da dire che è una ciaspola veramente ben fatta ha un telaio molto largo, ha un telaio con un bel sistema di galleggiabilità che vi assicuro anche utilizzato nella neve bella polverosa ci tiene abbastanza galla io l'ho utilizzato le 438 che sono pesante 75 kg e mi sono trovato veramente molto molto bene poi altro aspetto non da poco è che ha questa forma a clessidra che le permette di avere anche una buona camminabilità infatti avendo questa parte un po' tagliata a metà della ciaspola ci permette di non dover aprire troppo le gambe quando andiamo a camminare e avere una camminata più naturale però devo dire che per quanto riguarda la galleggiabilità sia che sia neve veramente fresca sia che sia neve un pochino più compatta è veramente una ciaspola che non ci farà faticare molto oltre alla galleggiabilità finendo per il telaio c'è da dire che nella parte anteriore è anche un bel angolo d'attacco quindi quando dobbiamo andare a camminare anche su dei pendei belli ripidi o comunque nei punti abbastanza complicati l'angolo d'attacco anteriore è bello accentuato ci aiuta a progredire più facilmente e a fare il passo passando a parlare invece della parte inferiore che arriviamo a parlare del grip di questa ciaspola perché troviamo tre tipi di ramponi innanzitutto troviamo il rampone anteriore posto sotto la punta del nostro scarpone fatto veramente molto bene con una bella seghettatura devo dire che anche su neve particolarmente gelata si va via tranquillamente ha davvero un'ottima presa ma l'ottima presa ce l'ha anche tutta la ramponatura centrale che è composta da sei singoli spuntoni classici che comunque ci danno stabilità e poi queste due barre di ramponatura laterali che veramente queste soprattutto sui traversi fanno una gran differenza vi assicuro che utilizzate anche su dei traversi belli tosti la ciaspola non ha avuto nessun tipo di problema quindi dal punto di vista del grip veramente una ciaspola eccezionale passando invece alla parte superiore iniziamo col sistema di allacciatura posteriore quello che tendenzialmente va sul colo del piede qui troviamo un sistema di allacciatura che ci permette di andare a regolare la grandezza la prima volta che utilizziamo lo scarpone praticamente essendo una ciaspola abbastanza universale che va bene dal 36 al 48 possiamo praticamente andare a serrare questo primo aggancio la prima volta che andiamo a comprare la ciaspola e poi non utilizzarlo più perché invece il sistema per andare poi a inserire il piede e fare la regolazione giusta è quello posto nella parte esterna ovvero a cricchetto classico cricchetto che funziona molto bene si può andare a chiudere e ad aprire facilmente anche con i guanti devo dire classico che funziona benissimo la cosa che poi mi è piaciuta è tutto il fascione in gomma che va a coprire il nostro piede sul colo del piede devo dire anche lui fatto molto bene non dà nessun tipo di fastidio anche dopo ore che utilizziamo le ciaspole non ci fa male quindi veramente la parte di fascione è fatta molto molto bene sulla parte anteriore invece dove va la punta del piede troviamo in questo caso una chiusura con sistema boa facilissimo una volta inserito il piede andiamo ad agganciare il boa due strette e due giri di boa ed è attaccato per toglierlo altrettanto facile si riesce a fare benissimo con i guanti devo dire che davvero da questo punto di vista il boa soprattutto su questa parte anteriore è veramente un'ottima soluzione per quanto riguarda la piastra poi come vi dicevo è utilizzabile dal 36 al 48 e ha un sistema estremamente semplice con un piccolo pezzettino di plastica andare a sollevare e si va veramente facilmente a muovere il tallone sulla piastra in modo tale di andare a scegliere la taglia desiderata tanto semplice oserei dire quanto è efficace perché è fatto veramente bene ma la tecnologia veramente super interessante di queste ciaspole è l'alzatacco perché troviamo un alzatacco che può essere utilizzato in tre posizioni la prima posizione è quella piatta classica che la si può utilizzare quando si va in pianura dove si dà modo alla ciaspola di basculare senza nessun problema quella a 90 gradi anche lei è classica in cui andiamo ad alzare l'alzatacco proprio per aiutarci nei pendii più ripidi devo dire che questo è l'unico punto che proprio cercando il pelo nell'uovo capita ogni tanto che su neve particolarmente dura questo vada a cadere ce lo ritroviamo nella parte inferiore e dobbiamo chinarci per rialzare l'alzatacco devo dire che a me non è successo neanche tante volte però ogni tanto può capitare e poi infine quella che è veramente l'innovazione di queste ciaspole ovvero che noi possiamo andare a posizionare questo alzatacco anche a 180 gradi facendo sì che la piastra della ciaspola possa scendere sotto l'altezza del telaio questo soprattutto in discesa vi assicuro è veramente fenomenale perché ci aiuta innanzitutto a non andare in avanti e a non avere il problema di scadere a valle ma soprattutto quello di avere la schiena sempre dritta di riuscire a bilanciare bene il carico di non sbilanciarci come dicevo in avanti e davvero è fenomenale cioè è da provare per capire quanto veramente torna utile soprattutto quando affrontiamo delle discese molto ripide quando dobbiamo fare delle distanze veramente lunghe è veramente una chicca non da poco arriviamo alle conclusioni per queste ciaspole 438 up and down grip di TSL per quanto riguarda il prezzo vengono vendute online a un prezzo tra i 180 e i 200 euro a chi le consiglierà di comprare a chi cerca una ciaspola per fare delle escursioni veramente toste, complicate con tante traversi delle ciaspole perfette per chi esce e magari sta fuori anche 10-12 ore a farsi un'escursione che fa tanto dislivello ma anche che magari si porta dietro dei bei carichi quindi diciamo un escursionista abbastanza esperto per quanto riguarda il prezzo secondo me è abbastanza consono per quello che andiamo a comprare ciaspole che dureranno nel tempo cosa non da poco sempre di TSL che tutte le parti che avete visto sono intercambiabili quindi qualsiasi parte si rompe con qualche euro si può comprare nuova e andare avanti a utilizzarle quindi devo dire che sì io ve le consiglio perché personalmente mi ci sono trovato veramente molto molto bene e detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauramente e sostivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima ciao